Musica Io amo la montagna, le sue vette, il contatto con la natura, il senso di libertà. Ma l'affronto con responsabilità e la vivo in sicurezza. Sempre. Lo faccio per me e per ciò che ho di più caro. Con facilità ho installato GeoRescue e ho compilato le informazioni che possono essere utili in caso di soccorso. Musica Con GeoRescue traccio i miei percorsi. Musica Posso essere GeoLocalizzato in ogni momento. Musica Con facilità rivedo le mie gite. Musica Ma una fatalità può cambiarti la vita. Musica Per fortuna c'è GeoRescue. Musica Invio l'allarme e, dall'altra parte, c'è subito il soccorso alpino. Musica Mi rintraccia su tutto il territorio nazionale, anche in aree impervie, e attiva immediatamente chi mi può aiutare. Musica Poteva andare peggio. Musica Ma attivando il tracciami, metto a disposizione dei soccorritori le mie posizioni. Musica E anche da casa la mia famiglia può aiutarmi. Musica Perché io amo la montagna e la voglio vivere in sicurezza. Musica Grazie GeoRescue GeoRescue è un contributo alla tua sicurezza, uno strumento che ti può aiutare nella richiesta di soccorso. GeoRescue consente ai soccorritori di conoscere la tua posizione e intervenire in modo rapido e preciso. Musica Il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sono promotori di questo servizio a tutela della vita dei frequentatori della montagna. Musica 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 Musica